Si chiamava Mike Ollingworth, aveva 42 anni di età. Era giovane, era un papà molto, e ripeto, molto giovane. E pensate che è morto nel sonno mentre teneva in braccio il figlioletto di pochi mesi di età. Come ogni sera, ha detto al figlio che lo amava, lo ha stretto insieme in un abbraccio congiunto, forte, totale. Si è addormentato per non svegliarsi mai più. Una tragedia che ha letteralmente sconvolto la famiglia intera, soprattutto la compagna mamma del bambino, di nome Holly Bridgewater. L'uomo non c'è più, l'uomo in pratica si è addormentato e è morto nel sonno. Ha avuto però l'ultima fortuna, quella di abbracciare il suo amato pargoletto, il suo amato figlioletto. Vi ringrazio per l'ascolto e il video termina qua. Mike Olingworth riposa in pace. Amen.